Il nuovo Nicolò squizzato, nel senso che ora hai molte più responsabilità rispetto all'inizio anno con l'infortunio di Lorenzo Lonardi. Ti pesa? No, pesarmi assolutamente no, anzi probabilmente è una cosa che mi motiva. Come ho detto prima, siamo tutti dispiaciuti per l'infortunio di Lonardi perché era un giocatore importante, però sono cose che succedono nel calcio, quindi andiamo avanti e sono pronto a assumermi questa responsabilità. Tu hai avuto lo scorso anno Zeman per gran parte della stagione, quest'anno Baldini, due allenatori che sono nel cuore dei tifosi del Pescara e sono in piccolo nella storia di questa città. Similitudini, differenze? Similitudini sicuramente hanno entrambi una gran cultura del lavoro, abbiamo sempre lavorato molto, come il mister lo stiamo facendo tutt'ora e entrambi vogliono giocare a calcio, quindi ci chiedono sempre di giocare a terra senza lanciare la palla e sono due grandi allenatori sicuramente. Dal punto di vista strettamente tecnico, dove sta migliorando squizzato rispetto all'anno scorso? Il mister sicuramente mi sta insegnando a smarcarmi più in avanti, quando magari non trovo spazio nella mia zona e quando si abbassa magari la mezz'ala, mi sta insegnando i tempi e il modo in cui andare in avanti. Ma è vero che quando eri piccolino sei andato all'Inter ma ti favi a Milan? Sì, è vero, perché la mia famiglia è tutta milanista, però sono andato all'Inter quando avevo sette anni, quindi poi fin da subito ho cambiato fede. E chi è il tuo giocatore che hai sempre avuto come modello? Come modello ho sempre avuto Kakà, perché essendo milanista fin da piccolo, Kakà. Allora devi portarti avanti di qualche metro in campo? Eh sì, due anni fa qualche volta l'ho fatto anche il trequartista, però ora sto bene dove sono. A proposito di Milan, non si gioca con i giovani del Milan Futuro e questo è un peccato per come stava il Pescara? Ma sì, è un peccato perché preferiamo sicuramente giocare invece che stare fermi, però come ho detto prima abbiamo 10 giorni, 12 giorni per lavorare, lo faremo bene e andremo a Ferrara pronti per portare a casa tre punti. Chiudiamo così, la classifica dice che oggi il Pescara ha tre punti di vantaggio sulle seconde, significa che il Pescara è la favorita? Ma non c'è da dire favorita o non favorita, sicuramente stiamo facendo bene e possiamo lottarcela con tre o quattro squadre fino alla fine del campionato. Il nostro obiettivo ovviamente è vincere ed è giusto dirlo e dobbiamo continuare così senza farci abbindolare dai complimenti e poi aprile e maggio vedremo. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!